Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E quindi è un alfiere, ormai dovrebbero dargli qualche medaglia, qualche riconoscimento, vedremo, dovremmo lavorare qualche cavalierato, qualche cosa di questa natura per l'innovazione. Roberto Scano, qui alla mia sinistra, è colui che ha messo in moto, devo dire, Bruno Calchera è stato l'iniziatore fisico di questo, ma Roberto è stato nel 2002 colui il quale ha messo in moto il mio interesse per il tema dell'accessibilità, che cos'è l'accessibilità, è l'abbattere, lo dico velocemente, le barriere architettoniche digitali che impediscono le persone con disabilità di utilizzare il web. Grazie a lui presentammo con il collega Campa la proposta di legge Campa-Palmieri, che già di per sé sarebbe stato un buon augurio, e come vedete ha funzionato almeno fino adesso, e che fu l'origine della legge stanca sull'accessibilità, prima legge in Europa su questa materia, peccato che a distanza di dieci anni, perché la legge è del 2004, e adesso ce lo dirà Roberto, questa è infatti la prima domanda, questa legge, l'accessibilità nei siti interi, nella pubblica amministrazione, resti ancora un obiettivo quanto lontano da raggiungere? Domanda di riserva? No, non si può, ok. La riserva è per l'anno prossimo. Siamo ancora per ecco indietro, come mi piace dire ultimamente, uno dei principali disabili è proprio la pubblica amministrazione, che non sente le esigenze del cittadino disabile, e non vede gli errori che quotidianamente fa quando pubblica servizi e contenuti. Essenzialmente c'è un problema, come diciamo sempre Antonio, dagli ultimi dodici anni che ci vediamo sempre a convegni e iniziative, è un problema di conoscenza degli strumenti, di cultura, soprattutto di capire quali sono le difficoltà che hanno i cittadini disabili a usare i servizi della pubblica amministrazione. Pensiamo all'errore più grande che troviamo nei siti web, i documenti inaccessibili, i classici PDF scannerizzati, scanditi e pubblicati online. Lì è un problema di cultura del documento, perché un documento pubblicato in modalità scandita è anche archiviato dalla pubblica amministrazione in modalità scandita, quindi stanno archiviando immagini, stanno archiviando contenuti che, pensando proprio all'applicativo ad esempio che utilizza per la dislessia, non consente di prendere il testo e rielaborarlo per persone che hanno particolari necessità. Quindi c'è proprio una mancanza di cultura su questa tematica. Dati recenti non ne abbiamo, però effettivamente i problemi più grandi sono due. Più giriamo per i siti web delle PA, più ci accorgiamo che i servizi soprattutto non sono accessibili. Quindi non solo purtroppo le informazioni, ma anche i servizi. Troviamo persone che non riescono ad esempio a, in questi giorni si paga la tasi, a pagare la tasi online se hanno disabilità. Devono andare agli sportelli, cioè non possono utilizzare la tecnologia che abbatte le barriere. Effettivamente crea nuove barriere. Altro problema tra l'altro, andando oltre i siti web, è la problematica delle smart city. Quando nel 2012 c'era la cabina di regia del governo Monti, all'epoca ho rotto parecchio le scatole, chi mi conosce sa che sono un rompiscatole su queste tematiche, per portare la tematica dell'inclusione digitale anche alle tecnologie smart city. Perché è inutile che adesso parliamo tanto di smart city. A prechiudo ho fatto polemica qualche settimana fa su una rivista dicendo che per me in Italia non esistono le smart city. Ci sono tentativi di smart city, ma non esistono le smart city vere e proprie. Il problema è creare tecnologie smart city, ma se creiamo nuove barriere a persone con disabilità, stiamo creando nuovi problemi. Quindi la tecnologia nasce neutra, chiaramente, perché nasce come beneficio per tutti. Il web nasce per tutti. Il mio capo Tim Berners-Lee, quando si inventò il web, ha creato qualcosa all'epoca per consentire a tutti di poter dialogare. Quindi non creare barriere. Per quello il web, per natura, deve essere accessibile. La tecnologia deve essere accessibile, deve essere pensata per tutti, altrimenti non è tecnologia. È soltanto un qualcosa per una limitata categoria di persone. Carlo, per la tua esperienza, per le cose che abbiamo sentito adesso da Roberto e per quello che abbiamo sentito nell'alco di questo pomeriggio, e per il tuo carattere indomito che ti porta da 26 anni, diciamo che teoricamente ti saresti già dovuto sciogliere, nel senso di avere già raggiunto l'obiettivo. In realtà no, 17 governi con cui ho più o meno combattuto non mi sono bastati a farmi occupare d'altro che dell'innovazione della pubblica amministrazione. Mi sembra che ancora ce ne sia abbastanza bisogno. Provo a ragionare, mentre pensavo come sarei potuto intervenire utilmente, mi chiedevo, ma una pubblica amministrazione che voglia favorire in qualche modo questa tecnologia solidale, cosa dovrebbe fare? E mi sono venuti in mente cinque miti che sentiamo dire continuamente e che sono probabilmente degli ostacoli estremamente importanti. Un primo mito è che per la tecnologia solidale non è frutto di solo tecnologia, è vero, ma senza tecnologia non si fa. Abbiamo bisogno di buoni tecnologi, abbiamo bisogno di buone competenze digitali, abbiamo bisogno di buone competenze digitali all'interno di chi fa tecnologia, di chi fa impresa, di chi sviluppa, ma anche abbiamo bisogno di una cultura digitale, almeno sui fondamentali di chi dirige questo paese. Perché è un paese in cui la politica e il vertice amministrativo sono del tutto indifferenti alla cultura digitale, non può creare cultura digitale, non creando cultura digitale non fa neanche tecnologia solidale, perché non è neanche capace di immaginare cosa ci si può fare con la tecnologia. Stimo molto il gruppo che è nato in questa legislatura dell'intergruppo innovazione, siete un gruppetto sulla carta abbastanza numeroso, un po' meno a partecipare alle riunioni, però certamente è già un inizio, quando qualche anno fa provammo a fare un corso per deputati spiegandogli che cos'era internet, non venne nessuno, gratis, c'era veramente solo il... Sapevamo già tutto, quindi è inutile... Questo è il primo assioma, il secondo assioma, essere una PA solidale non può essere compito solo della pubblica amministrazione, creare tecnologia solidale si fa insieme, parlavo delle smart city, così come una smart city non può essere il compito di un municipio, non esiste lo smart municipio, esiste una smart city se ci si muove insieme, pubblico, privato, terzo settore, cittadinanza organizzata, ci si muove insieme così per fare tecnologia solidale e non si può che vedere come opportunità la complessità della società. La complessità della società non è un rischio, è una grande opportunità per una pubblica amministrazione che è capace di uscire dal palazzo. Certo se non esce dal palazzo non la vede, se rimane nel suo ufficio questo non la vede. Allora la prima cosa, in questo secondo punto, nel primo punto fai cultura impara, studia, studia tutti, studia i ministri, studiano i sottosegretari, studiano i deputati, studiano i vertici amministrativi, almeno non sentiremo dire delle bestialità, così in questi anni abbiamo sentito dire delle bestialità dalla politica sulla tecnologia, che non è questione di tecnologia, io sono laureato in filosofia, non è che bisogna essere technology, ma a volte ci sono delle cose che è come se ti dicessero, possiamo andare in aereo da Roma a New York in un quarto d'ora, tutti sappiamo che è impossibile, eppure non è che abbiamo fatto ingegneria dei trasporti, sappiamo che alcune cose sono impossibili, così sappiamo che alcune cose dette dai nostri politici sono impossibili. terzo assioma, ma non è questione dei soldi, ma che stiamo scherzando? È anche questione dei soldi, l'innovazione senza soldi non si fa, il grande ostacolo per la messa in accessibilità completa dei siti internet è perché le amministrazioni non ci investono, quanto poco, qualcosa devi investire, allora se tu, l'innovazione al costo zero è una bufala, non ci credete, non esiste innovazione al costo zero, esiste innovazione buona che ora ci fa spendere e domani ci fa risparmiare, nella pubblica amministrazione è neanche tanto vero questo, esiste innovazione buona che oggi ci fa spendere e domani ci fa dare servizi migliori, quindi essere più compliant a quello che è il nostro scopo di amministrazione, cioè fornire buoni servizi ai cittadini che ci pagano con le tasse, il nostro compito non è risparmiare, il nostro compito è fornire buoni servizi a chi ci paga nel patto sociale, ci paga con le tasse, questo non si può fare in innovazione senza soldi, non ha significato ed è un punto su cui io non smetterò mai di insistere. Quarto assioma, ma le tecnologie cambieranno la pubblica amministrazione? No, le tecnologie, inserire tecnologie solidali in una pubblica amministrazione fordista e gerarchica, come la nostra, è mettere, scusami la citazione blasfema, è mettere vino nuovo in botti vecchie, cosa ottieni sostanzialmente che la botte si rompe, come ci diceva qualcuno molto più sapiente di noi, e il vino va via, lo perdi il vino, allora noi dobbiamo creare la pubblica amministrazione è capace, che ha fatto cultura, che è riuscita a uscire dai palazzi, che è riuscita a investire bene, soldi bene, deve anche cambiare se stessa se no non sarà mai in grado di accogliere una tecnologia che sia una tecnologia innovativa, cambiare se stessa vuol dire cambiare modelli organizzativi, ci stiamo provando, vuol dire inserire giovani, perché una pubblica amministrazione fatta ad età media di 53 anni, quella che abbiamo attualmente, difficilissima me, io ne ho 62, quindi non sto assolutamente facendo un cicero prodomo sua, io sono già fuori da questo discorso, ma che non immette giovani, ovviamente non può fare tecnologia di nessun genere e neanche tecnologia solidale. Un ultimo assioma è che tanto c'è l'Europa, questo fa parte con i fondi, quindi tanto c'è l'Europa che ci aiuterà, attenzione perché l'Europa non ci aiuterà con i fondi strutturali, non ci aiuterà con i finanziamenti, se noi non abbiamo prima fatto questi quattro passaggi precedenti, non abbiamo fatto cultura digitale, non siamo riusciti a fare squadra e quindi a fare un'amministrazione condivisa, che è un'amministrazione non fatta insieme, non siamo riusciti a investire bene i soldi e non siamo riusciti in qualche modo a cambiare l'organizzazione, non saranno certi i fondi europei perché li perderemo come ha dimostrato le ultime programmazioni in cui ne abbiamo persi più della metà. Spieghiamoci in questa sala, ha fatto l'elenco dei disastri e scatta l'applauso spontaneo, abbiamo fatto per tutto un pomeriggio un catalogo di cose belle e dovevo chiamare io l'applauso, allora aveva ragione, dove è Giovanni? Giovanni fosse già partito, Giovanni mio zio con il quale preparando l'incontro lo ragionavamo e diceva sai le brutte notizie funzionano sempre nel giornalismo, allora abbiamo avuto la prova approvata, grazie a voi, va allora vi mostro sempre qui, non sono qui per vendere ma per regalare perché Roberto che è un lavoratore infaticabile ha appena pubblicato l'accessibilità dei siti della pubblica amministrazione requisiti e best practice per garantire a tutti informazioni e servizi che è appunto la sua ultima fatica letteraria, la settima fatica, quindi come Ercole e a dispetto questo fisico minuto nasconde però una Erculea passione per i temi di cui siamo qui a discutere oggi. Allora io lo segnalo il libro e ti direi se tu ipoteticamente dovessi convincere qualcuno dei presenti, che vale la pena di leggere questo libro, che cosa potresti dire e più seriamente a chi è rivolto questo libro. Allora premesso che non sono un marketer quindi non so vendermi, motivo per cui alcuni dicono che mi sono fatto i soldi con l'accessibilità non è vero nulla, anzi ci ho rimesso a livello lavorativo lavorando sul tema dell'accessibilità perché potevo dedicarmi a tre tematiche però effettivamente è stata una tematica di interesse che mi ha portato a conoscere persone meravigliose, settori meravigliosi, è una scelta che li farei comunque perché io sono dell'idea che le cose si fanno per passione e non per i soldi, se poi arrivano anche i soldi meglio però comunque già ottenere soddisfazione da una passione è la cosa migliore secondo me in ambito lavorativo. Diciamo questo è adatto per tutti, non è dedicato espressamente agli sviluppatori, non troverete una riga di codice dentro questo manuale, questo è proprio per far capire a chiunque, soprattutto lavora in pubblica amministrazione, quali sono le motivazioni che ci hanno portato a creare questi nuovi requisiti. Anche lì un aneddoto sui requisiti, Antonio lo sa benissimo, noi potevamo essere il primo paese al mondo ad avere l'aggiornamento normativo secondo le linee guida di accessibilità internazionali, le WCAG, che come consorzio V3C abbiamo fatto nel 2008, nel 2009 abbiamo fatto la traduzione lingua italiano, nel giugno 2010 avevamo pronti i nuovi requisiti. Erano pronti, sono stati firmati all'epoca dal Ministro Brunetta, dopodiché cadute di un governo, cadute del successivo e via dicendo, siamo arrivati che l'aggiornamento dei requisiti è stato firmato nel marzo del 2013 dall'allora Ministro Profumo, caduto l'ennesimo governo, finirono in gazzetta ufficiale. Questo decreto ha passato tre governi prima di uscire, quindi un vanto come paese che potevamo avere era di essere effettivamente i primi al mondo. Siamo arrivati dopo altri, diciamo, quello che si auspica essenzialmente è che questa tematica dell'accessibilità non sia vista, come diceva prima giustamente Mocchi, come un costo aggiuntivo per fare qualcosa, perché quando un'azienda fornisce un prodotto alla pubblica amministrazione c'è una legge che dice che quel prodotto deve essere per tutti, quindi un prodotto per tutti deve essere già pensato e progettato per tutti, altrimenti facciamo gli errori dell'architettura. Antonio Sallo, cito ogni volta, finché non lo butteranno giù, ho il ponte di Calatrava a Venezia, il ponte di Calatrava è un esempio di architettura inaccessibile che ci è costato molti soldi a produrlo inaccessibile e ancora molti più soldi ad avere gli ausili per l'accessibilità, ausili che tra l'altro toglieranno a giugno di quest'anno perché non funzionano. Quindi il problema è che l'accessibilità diventa un costo quando si aggiunge dopo, quindi l'accessibilità deve essere un principio di sviluppo di informazioni e servizi della pubblica amministrazione e anche delle aziende, perché una delle novità apportate tra l'altro dal decreto Crescita 2, l'ultimo decreto fatto dal governo Monti dell'epoca, quindi sempre gli ultimi decreti, le ultime leggi solitamente sono quelle che poi ci cerca di applicare, estende l'applicazione di questa legge a tutti i soggetti che beneficiano di contributi pubblici o agevolazioni per lo sviluppo di soluzioni informatiche ICT. Quindi che significa? Una cosa che è stata poco portata a risalto della stampa, anche ad esempio i contributi che dovrebbe dare il credito d'imposta il ministro Franceschini per quanto riguarda i siti web e i servizi web dedicati al turismo, chi otterrà il credito d'imposta dovrà sviluppare servizi accessibili a tutti, perché come abbiamo modificato la normativa, l'idea è che chiunque beneficia di contributi pubblici per creare qualcosa di pubblico deve farlo per tutti. E qui aggiungerei quindi anche i giornali, ma qui aprirei una parentesi un po' particolare. Tutti i contributi stampa, chiunque riceve i contributi stampa dovrebbe a questo punto, se li utilizza anche parzialmente per lo sviluppo della versione web dei siti delle testate giornalistiche, deve farli secondo i criteri di accessibilità. Allora ringrazio Roberto. Carlo, hai avuto il più grande applauso del pomeriggio con l'elenco dei disastri. Adesso la sfida per te è riuscire ad avere un applauso, non dico superiore, ma quantomeno di pari intensità, dando il tuo pronostico però positivo per il 2015. Io non sono del tutto, nonostante quello che abbia detto, non sono del tutto pessimista. Vedo alcuni elementi di discontinuità positivi, in generale per la tecnologia del Paese e in particolare per la tecnologia solidale. Un primo che sembra banale, vedo un sacco di assessori giovani che si occupano di innovazione nelle città e che hanno voglia di fare. Ci sono una serie di assessori di tutti i partiti, così non siamo, da Dell'Inoci a Lecce di Forza Italia, a Marani a Parma di 5 Stelle, a tutti gli assessori a Leonori a Roma, a Tajani a Milano. Tanti assessori giovani che hanno voglia di fare e che sono tutti sotto i 40 anni e stanno scommettendo in un'amministrazione che diventa inclusiva tramite le tecnologie. Questo è un dato molto positivo. Se riusciremo a dargli un po' di credito, un po' di spazio, farli anche incontrare insieme, noi ci proviamo come forum, ma ci possono essere mille occasioni di farli incontrare insieme per sentirsi un po' con una massa critica, c'è il rischio che ognuno si senta un po' solo. Questo è un dato positivo. Un secondo dato positivo che vede un'attenzione molto maggiore da parte delle imprese. Le imprese hanno capito che una tecnologia che non sia inclusiva non è una tecnologia che possono riuscire neanche a vendere. Quello che le amministrazioni forse hanno capito meno, le imprese l'hanno capito molto bene. Una tecnologia che non è inclusiva non è che non è buona per i disabili, non è buona per nessuno. Come una scuola che non è adatta ai disabili non è una scuola buona per nessuno. Questo è un principio, una pubblica amministrazione che non è aperta a tutti non è buona per nessuno. Questo principio di inclusione vedo che soprattutto dal punto di vista delle imprese è stato più recepito. Terza speranza, ma questa è veramente una speranza per buttare il cuore ante l'ostacolo, cominciamo ad avere nella pubblica amministrazione uno straccio di piano sulla digitalizzazione. La speranza è che da una governance ancora molto incerta ma che comincia a intravedersi nella nebulosa un qualche ordine costituito come le prime costellazioni e quindi spero che da lì, perché certamente è un'innovazione così difficile e molto difficile farla se non c'è una governance e non c'è un piano. Sui primi due punti sono molto ottimista, su questo sono moderatamente ottimista, però credo che ci sia bisogno della forza di tutti noi. In questo senso qui non possono essere lasciati da soli i politici. Ti voglio bene, ma non potete farlo da soli. Dobbiamo essere noi che dobbiamo in qualche modo sostenere un processo del Paese così indispensabile con la forza di tutti noi, aiutandoli a fare, ad esempio, come diciamo spesso in questi consensi, una commissione sull'innovazione, perché lo sapete che in questa grande istituzione come il Parlamento dell'innovazione tecnologica e dell'ICT se ne occupa la commissione dei trasporti e quindi non esiste una commissione che si occupi di ICT e di innovazione e quindi ovviamente siamo sempre un po' stranieri in qualche modo e anche aiutare a costruire un sentire comune per cui questo è veramente il progresso del Paese e questo progresso sarà di default inclusivo. Le speranze più che applaudite vanno perseguite. Allora direi che come le speranze più che applaudite vanno perseguite, io credo che miglior stavo dicendo epitaffio ma no, miglior conclusione per queste nostre quasi tre ore di lavoro insieme, penso che non ci possa essere e quindi il ringraziamento è a coloro che hanno voluto essere qui con noi oggi, a voi che avete resistito qui nella sala più calda ma anche una delle più belle della Camera, a coloro che hanno qui, i funzionali, le persone che lavorano qui alla Camera, a coloro in quadrature, reso possibile lo streaming in tutto il mondo. Ancora un ringraziamento a Roberto, Eugenio qua a Roma e a Manuela, Marianna a Milano che hanno lavorato con noi per questo, per questa giornata, quindi veramente le speranze non vanno applaudite, vanno perseguite. L'appuntamento resta, come ho detto più volte, visto appunto l'avvento si avvicina a Dio piacendo l'anno prossimo, vedremo se l'8 marzo o giù di lì, ma anche perché poi non vorrei andare in conflitto con l'evento di Anna a Milano, quindi insomma potremmo anche ragionare di fare una special edition a Milano e questo potremmo, e di questo è uno dei tanti impegni maveri che prendiamo in questa occasione circostanza, quindi un rinnovato grazie, fate i compiti delle vacanze, chi si è impegnato a farlo, perché senza compiti io e noi non possiamo fare niente, e quindi ancora grazie, buon Natale, un buon 2015 a tutti e a tutti ancora arrivederci. Grazie, grazie. Un applauso Antonio, grazie.